Assessore Casi, come sta procedendo questo cantiere che insomma per gli aretini per capirsi quello ridosso della ferrovia? Ecco abbiamo visto dei consolidamenti, come mai? Allora i lavori stanno procedendo spediti, hanno finito quello che è l'opera, i lavori di scavo e hanno costruito anche la platea dove tra poco inizieremo a vedere la costruzione in cantiere di quello che è il monolite che costituirà il tunnel, il secondo tunnel parallelo a quello già esistente, un monolite alto 12 metri per 8 lungo 39 quindi sono opere all'avanguardia insomma per una città come Arezzo e che permetteranno anche poi tutto quello che sarà il nuovo percorso in questo momento stanno portando avanti anche le opere di consolidamento della Scarpata che come da progetto appunto prevedevano certi tipi di intervento che favoriranno quella che sarà poi dopo la procedura di spinta del monolite sotto la ferrovia voglio anche ricordare che i binari saranno rialzati proprio con una opera proprio apposta che porterà avanti RFI che permetterà il favorimento della spinta e quindi quello che sarà la realizzazione finale dell'opera Ci siamo anche per via Fiorentina, manca davvero poco? Sì, dalla prossima settimana entreranno in cantiere per un ultimo sopralluogo la ditta e entro la fine di giugno partiranno finalmente i lavori che sono stati richiesti da tutta la città che sono ormai da anni attesi appunto sia dalle attività e dai cittadini che vi abitano ma anche per tutta la viabilità cittadina Per quello che riguarda invece via Fabio Filzi la situazione si è risolta? Sì, stanno sistemando quelle che erano le ultime questioni che sono nate come sappiamo tutti dal problema che è nato in cantiere e anche in questo caso ripartiranno i lavori che comunque anche in quel cantiere stavano procedendo insomma a ritmi veloci quindi anche il cantiere di via Fabio Filzi sta andando avanti quindi diciamo che con questi tre interventi finalmente riusciamo a dare fine a quelli che erano dei progetti che erano rimasti bloccati in questi ultimi anni e quindi riusciamo anche a sbloccare delle priorità che comunque l'amministrazione a inizio mandato aveva deciso di portare avanti e di concludere nel più breve tempo possibile oltre a questo sta andando avanti anche quella che è la progettazione di tutti gli interventi finanziati dal PNRR che andranno a risolvere varie situazioni di degrado come appunto abbiamo già sostenuto nelle varie illustrazioni dei progetti